I pagolosi, i più stuzzicanti E le fresche biscottate e fragranti La confezione, le tielle croccanti Due a due sigillate perché Il sapore rimanga con te Crissi, crisi, crisi in boh Crissi in boh, crisi in boh Non ci basta assaggiare Crissi in boh, crisi in boh Tu mi sei stuzzicare Ma rispondere no? Eh, se hanno cambiato la password di internet Non lo so Cos'è? Un regalo, apri Ma non l'hai nemmeno guardato Sofì? Sofia Sofia è un nome corto, perché lo devi abbreviare? Eh? Ma davvero? Sì Cioè fammi capire Tutti i tuoi colleghi fanno questa cosa qua Con mamma, papà, fratelli, tutti? Sì Certo È una foto di famiglia Perché? Sì Ma io dico I tuoi colleghi rompono le palle così a tutti Pronto? Sì No, 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 non c'è nessun problema Va bene Fra poco E in anticipo Chi? Ma come chi? Il fotografo E perché gli hai detto sì? Devo ancora finire Ti prego Si tratta di una cosa di un quarto d'ora Eh? Non sono ingenua Sto solo cercando di capirci qualcosa E io sto cercando di dirti che dopo domani ripartono Non è né colpa tua né colpa sua È la vita Stessa storia di dieci anni fa Pensi di sapere tutto tu Della vita Delle cose come vanno Di chi si innamora uno Di chi si innamora l'altro Che tutto rimane uguale Ma io non sono come te Io non voglio pensare Io penso che loro se ne vanno Vanno a fare la bella vita E Raffaella Raffaella rimane qui Sulla bocca di tutti Sedotta e abbandonata Pronto? Nino Ciao Gioia Grazie per i cannoli Ero proprio in crisi d'astinenza Senti Gioia Mi hai mandato tutti questi soldi Ma scusa Ma quanto soldi? 5.000 euro Eh ma forse ti sei sbagliata Tutti questi soldi No Non ti preoccupare Ho vinto la lotteria Sì va bene Veramente? Sì Vanno a spendere tutti in candito e cioccolato Però Ah E' una roba buona costa Eh lo so Ma un po' di quei soldi usali per te Mi raccomando Per me? Ma che se ne importa di me? Senti ma tu quando è che torni? Non ci torno in paese Nino Sono stufa di sentirmi chiamare bombe Vedo grandi novità Eh sì Lavatrice Electrolux classe A3Pi da 9 kg E la professionista del caffè dei longhi Professionista? Sì Con un tocco macina i chicchi all'istante Per un espresso come vuoi tu Senti che è Roma E quanto costa? È il regalo Il regalo? Sì Ho comprato la lavatrice Electrolux a 599 euro E mi hanno regalato lei la professionista del caffè che vale 599 euro Compri lei e ti regalano questa meraviglia Solo da un euro Le voglio Tutte e due E non assaggio un cappuccino? E non assaggio un caffè che vale 599 euro E non assaggio un caffè che vale 599 euro E non assaggio un caffè che vale 599 euro E non assaggio un caffè che vale 599 euro